E siamo a due finali di fila, siamo a due finali di fila per Matteo Berrettini che torna dall'infortunio vincendo a Stoccarda e arrivando in finale, in quel del Queens. Il torneo della regina che lo vede ancora grande protagonista dopo la finale dello scorso anno, vinta contro Cameron Norrie, quest'anno affronterà uno fra Cilic e Krajinovic, vedremo chi uscirà dalla seconda semifinale. Però insomma oggi Berrettini probabilmente ha messo a referto quella che è la migliore prestazione sinora del torneo, perché oggi serviva con Berrettini bello centrato per non complicarsi la vita contro un avversario forte. Un avversario che sicuramente può dire la sua anche su questa superficie, che l'anno scorso è andato molto vicino a togliergli un set a Wimbledon partendo dalle qualificazioni. Ancora in tanti non lo conoscevano, ma per chi l'aveva già cominciato a seguire, soprattutto dal match di qualificazioni degli Australian Open contro Musetti, aveva capito che Bottic van de Zanskulp non era assolutamente un blef, ma l'olandese sarebbe arrivato e poi insomma ha fatto quello che ha fatto agli US Open. Quest'anno sta facendo una stagione di una continuità straordinaria e l'olandese poteva creare dei problemi, invece Berrettini è stato bravissimo a tenerla a bada, perché nel primo set ha vinto quel game da nove palle break, che è stato fondamentale alla fine, nonostante poi sia stata controbreccata, è stato fondamentale nell'economia della partita e poi è stato bravissimo anche dopo la distrazione quando ha servito per il set a rimettersi subito in carreggiata giocando un ottimo game in risposta che gli ha garantito poi di vincere il primo set e lì veramente insomma van de Zanskulp poi è andato con grande difficoltà, anche prima dell'interruzione per pioggia si era già salvato da 0-40, è arrivato il break dopo l'interruzione sul 30-40, anche lì francamente insomma Fergus Murphy non è che l'abbia gestita proprio bene, la situazione si poteva interrompere in un altro momento, e lì veramente le dell'olandese sono assolutamente giustificabili, però insomma Berrettini è stato bravo poi a chiuderla anche rimontando nell'ultimo game da 0-30, in tante situazioni comunque se l'è cavata bene perché era una partita che poteva assolutamente complicarsi, poteva sicuramente essere più difficoltosa in certe situazioni perché nel primo set se vai 5 pari è un'altra storia, nel secondo set se controbrecca van de Zanskulp e poi vai anche lì sul 5 pari potrebbe essere un'altra storia, ed è stato bravo Berrettini a risolverla senza troppi patemi, perché poi insomma una partita anche cominciata in ritardo, una partita che ha avuto un'interruzione era fondamentale chiuderla senza spendere neanche troppe energie, che domani se ci fosse Krajinovic insomma comunque sarebbe un avversario non semplice perché Krajinovic, è vero che Berrettini l'ha già battuto anche nella finale di Budapest nel 2019, però è un avversario assolutamente da tenere d'occhio, perché sta giocando bene questa settimana, nonostante che sull'erba non abbia un grande bilancio in carriera, però questa settimana sta giocando particolarmente bene, il match con Query soprattutto l'ha giocato bene, e se ci dovesse essere Cilic sarebbe una minaccia, perché Berrettini non ci ha mai giocato con Cilic, ma sappiamo che Cilic ha un feeling con questo torneo speciale, l'ha vinto due volte, un anno nel 2012 con la squalifica di Nald Bandian, nel 2018 battendo Djokovic, che veniva dalla sconfitta con Cecchinato a Parigi, però poi sarebbe andato a vincere Wimbledon, quindi era un Djokovic in ripresa quello che batte Cilic quattro anni fa, questo per dire che con questo torneo Cilic ha veramente sempre avuto un rapporto speciale, e anche quest'anno comunque è arrivato fino alle fasi finali, nonostante abbia stentato soprattutto con Brody, ha giocato due discreti match contro Bublik e contro Rusovori, soprattutto contro Bublik nel primo set poteva perderlo, invece è riuscito a risalire nel tiebreak annullando set point, e poi a vincerlo in due, anche ieri è stato un primo set non semplice, poi è riuscito a vincerlo in due, ora è sotto di un break, vediamo un po' quello che succederà in questa semifinale, però insomma sicuramente si dovrà alzare ancora l'asticella se ci dovesse essere soprattutto Cilic domani. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, intanto Berrettini scala anche posizioni nella race, perché vincendo anche il torneo sarebbe numero 11, quindi si recuperano anche diversi punti, inoltre Catorino resterà anche fra le prime, grazie a questo risultato proprio, perché serviva la finale per rimanere nelle prime sette teste di serie, nelle prime otto, nella testa di serie numero 7 a Wimbledon, che comunque è qualcosa di molto rilevante per Berrettini, soprattutto in termini di tabellone, perché se fosse stato fuori dalle prime otto teste di serie c'è il rischio di affrontare già uno magari fra Djokovic e Nadal, uno dei primi già agli ottavi di finale, e invece così almeno fino ai quarti si tutela, e quindi insomma vediamo, vediamo un po' quello che succederà domani, però sicuramente è un Berrettini in grande crescita, e questa settimana è riuscita ad andare anche oltre ad una giornata no contro Kudla, e ha gestito bene le altre partite, anche ieri contro Paul era partito male, è salito di intensità, è salito di reattività, e poi la partita l'ha portata a casa senza troppi patemi, e come oggi è stato bravo contro comunque avversari sicuramente ostici. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valuta che mi piace al video, ragazzi ci risentiamo, e arrivederci alla prossima, al prossimo video. Grazie. Grazie.